buonasera a tutti da aldo buonasera prima di tutto grazie per seguire il mio canale allora voglio parlarvi di una situazione che non so come definirla in questo momento ho installato l'app immuni sul mio tele sul mio smartphone dopo un poco averla installata premetto che l'ho installata per curiosità per capire come funziona data la pubblicità fatta sui social in tv su youtube ho deciso di installarla installata questa applicazione premetto che non avuto nessun problema sullo smartphone si è installata tranquillamente il problema è avvenuto qualche giorno dopo ma non per via dell'installazione dell'applicazione per via delle persone che quando hanno letto su facebook che io ho installato l'applicazione le persone hanno iniziato a scrivermi sia sulla bachica facebook che in privato di eliminare il loro numero di telefono e il loro nome dal mio smartphone perché non mi autorizzavano non davano il consenso all'applicazione di entrare nel loro smartphone e violare la loro privacy e per me questo risulta un po alquanto strano perché insomma l'applicazione entra nel loro smartphone non so che cosa ci abbia da nascondere la gente non lo so dove sta la violazione della privacy premetto che io penso che la privacy in questo momento sia l'ultimo dei problemi sia l'ultimo dei problemi tessera agip tessera al supermercato iscrizioni su facebook iscrizioni su twitter consenso per l'acquisto su internet di un qualsiasi sicuramente non so che lavora me la nostra privacy se esiste ancora o meno tracciamento degli smartphone da complottismo allo stato puro però la domanda mia è questa vorrei sapere voi che cosa ne pensate dell'applicazione immuni installata sul vostro telefono e se avete avvertito qualcuno o avete avvertito i vostri contatti se avete installato l'applicazione immuni oppure se ritenete che questa applicazione sia semplicemente una cosa creata dal governo o da persone commenti un po perverse per spiare le nostre abitudini fatemelo sapere in basso nelle descrizioni così giusto per avere un'idea vi ringrazio a tutti e grazie per seguire il mio canale e per chi guarda questo video se ne vuole se si iscrive al mio canale li dico grazie anticipatamente ciao a tutti e buon weekend da Aldo Apollian Blogger